Un disegno di legge organico che non vuole essere, come dicevamo poco fa, esaustivo, ma vuole finalmente porre un problema fondamentale rispetto alla pluralità dell'informazione, alla libera informazione e soprattutto all'informazione locale. Molto spesso dimenticata dai media nazionali e invece utilizzata e valorizzata molto da tutto ciò che è l'informazione locale. Quindi in questa direzione abbiamo presentato un disegno di legge organico, una sorta di cantiere aperto nei prossimi da qui a un mese per poter fare finalmente in Sicilia una legge che sia all'avanguardia e che possa in qualche modo tutelare il livello occupazionale e garantire il massimo dell'innovazione e consentire alle imprese editoriali di tutti i tipi di uscire da questo momento di crisi e quindi potenziarle e farle ritornare ad essere un punto di riferimento protagonista del sistema, non solo dell'informazione ma del sistema imprenditoriale siciliano.